bene ragazzi siamo qua tornati a nuovo video oggi live reaction di napoli salernitana una partita facilissima da giocare comunque prima che inizia il primo tempo di napoli salernitana andiamo a vedere le formazioni su sopascore che la lascio primo link in descrizione miglior app del calcio per vedere le formazioni ufficiali prima della partita la lascio primo link in descrizione perciò andiamo a vedere adesso la formazione su sopascore di napoli salernitana allora per il napoli gioca meret di torenzo racmani one jesus mare lui lo bottica fabio rubiz lozano zirischi elmas e mertens questa è la formazione napoli indovinate qua sotto nei commenti di chi è la maglia del napoli chi indovina metterò il cuoricino perciò ragazzi adesso c'era tempo di napoli salernitana speriamo di vincere che ci siano i tre punti c'era poco tempo ragazzi inizia il primo tempo di napoli salernitana dai ma mai per i napoli ragazzi facciamo bella figura e vinciamo questa partita importante con la serri gara che vince assolutamente per i tre punti il difensore ma pure il gioco da è gol dai ho confermato one jesus una zero dai nooo cavolo dai il gioco della catena di destra mette con una sponda perfetta con zirischi che se spalla la porta col tacco da che scelta dai che gol abbiamo preso ottima azione della salernità che voleva fare rigore rigore vai ultimo secondo bravissima ma stai rigore dai vediamo questo tempo così ragazzi c'è qualche tempo parte che potrebbe finire anche un lavoro all'ultimo secondo uno un po meritata però il nome dopo il quello che abbiamo fatto in una 0 che un po sbagliati passaggi e tutto e poi siamo ripresi comunque speriamo di fare il secondo tempo bene perché napoli sta un po sotto facendo un po male perciò ragazzi dobbiamo riprendere questo secondo tempo e fa una bella partita e che la sanità non ha fatto prima nazioni un gol dobbiamo giocare attenti in difesa e in attacco dobbiamo essere più attivi dai siamo al secondo tempo di napoli sanità dai ragazzi il secondo tempo di napoli sanità natale dal 2 a 1 facciamo il terzo gol che la sanità facciamo il terzo dai ragmani che gol da difensori oggi segnalo racmani e un accesso dai 3 a 1 dai dai l'ho detto facciamo segnalo dai però faccio di rigore dai 5 minuti c'è un'altra curva rigore per il napoli faccio di riguardo sull'interno insieme insieme contro bellezza insieme a insieme sull'ischietto 64 poker dai insieme 4 a 1 ragazzi invece qua la live reaction di napoli sanità una bella partita il secondo tempo è stato bellissimo comunque primo tempo non c'è da un po male dopo il gol ma sbagliato troppo nel secondo tempo abbiamo visto un altro napoli una cosa il 4 a 1 adesso stiamo avanti dal milan e speriamo che il milano pareggio stasera contro la juve così ci mettiamo al secondo posto vabbè ragazzi per questo video finisce qua invece la nostra reaction iscriviti al canale lasciate mi piace niente ragazzi nel prossimo video ciao 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 ciao